Questa sera è utile utilizzare lo strumento che abbiamo messo a disposizione, lì c'è un microfono in fondo a quello spazio, c'è un microfono e c'è anche una telecamera che consente ad ognuno di voi di poter rapidamente dire ciò che pensa. Questo contributo sarà inserito sulla rete e sarà un contributo che noi utilizzeremo perché penso che sia importante aprire questo scambio di idee e fatelo liberamente anche laddove voi non siete d'accordo su quello che stiamo dicendo qui, su quello che ho detto, quella è la possibilità che abbiamo perché questo confronto è utile per la nostra prospettiva e questo confronto deve essere la costante che accompagni il nostro impegno. Grazie